Più di 68 chili di marijuana sequestrata. Il risultato di un'operazione di polizia giudiziaria che è stata condotta dalla squadra mobile e dai commissariati di Polizia di Stato di Gela e di Niscemi. È stato arrestato dalla Polizia di Stato martedì 18 ottobre Pasqualino Agatino. Il giovane gelese classe 1989 sarebbe stato dunque colto nella flagranza di reato di coltivazione, produzione, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Venerdì 21 ottobre i dettagli dell'operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa presso gli uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di Gela alla presenza del Procuratore della Repubblica Fernando Asaro. In quell'occasione verranno illustrati anche i risultati dell'attività antidroga svolta dalla Polizia di Stato nel comprensorio di Gela.